Inaugura la ciclovidia, il percorso per le due ruote che dalla stazione centrale di Sulmona raggiunge, attraversando Corso Video, il centro storico e le strade secondarie, i luoghi più significativi del territorio dal punto di vista storico, artistico e religioso. La ciclovidia costituisce anche il collegamento tra la stazione e il centro storico, la periferia e le frazioni di Sulmona, con un valore aggiunto di mobilità sostenibile, pronta per essere inserita in un quadro normativo più ampio, il piano urbano di mobilità sostenibile. Sottolinea Bici incontriamoci, ma non meno importante, questo anello ciclabile costituisce il nucleo centrale di svariati altri percorsi, pronti per essere messi a regime che interessano tutta la Valle Peligna, sviluppandosi lungo il corso dei vari fiumi che rendono ricco il nostro territorio. L'appuntamento è per domani alle ore 15 nella centralissima piazza 20 Settembre davanti al monumento di Ovidio, che è l'ispiratore del percorso, da dove partirà la bici trekking sul Vella, la pedalata pomeridiana tra la ciclovidia e la ciclovia del Vella, evento inserito nel cartellone estivo del comune di Sulmona.